Il teatro di mattina per le scuole ha conduto lo spazio, chi ha comprato l'edificio ha fatto cambio di destinazione d'uso e ha realizzato un albergo, noi ci ha lasciato qui a gestire questa piccola sala di ventura e allora al posto dei libri abbiamo esposto delle bottiglie di vivo da autore e quando non ci sono le bottiglie di vivo ci sono anche altre opere. Insieme è la terza personale che organizziamo insieme, c'è stato un amore a prima vista, loro sono molto seri, molto organizzati e noi siamo veramente orgogliosi di ospitare e quindi di ospitare tutti gli artisti che rappresentano. Io vi ringrazio della partecipazione, vi auguro una splendida serata, ci sarà poi un buffet, saremo insieme e anche un intrattenimento e quindi vi passo Ilaria che farà le sue presentazioni. Grazie di cuore e buona serata. E congratulazioni. E buono e bello Maurizio che mi c'abbia, mi piace. Mi sono cambiato. No! Allora, io non devo dire nulla, passiamo la parola al pubblico. Buonasera a tutti, allora, dove c'è arte c'è festa, dove c'è arte c'è comunicazione e c'è simpatia. Soprattutto dove c'è arte, non c'è mai una giornata o una serata passata in maniera banale, passata in maniera stupida, non c'è mai un momento in cui lo dice, ma sapete, stasera potevo fare un'altra cosa. Generalmente rappresenta sempre un momento di interesse profondo per quanto riguarda che nella nostra vita noi con il nostro cuore riusciamo a dare, cioè la comunicazione di cultura. La prima fregatura che ti dà un critico è quando ti comincia a dire, soprattutto una personale, la tua arte mi ricorda quella di Tiziano, magari la ragazza mi si dice anche la tua arte mi ha qualche cosa del Tintoretto, del Tiempo, lì potete stare per il critico, lì c'è la fregatura. Non c'è un'analisi di quello che quel ragazzo in quel momento voleva dare, che quella persona voleva dare. Sapete una cosa che mi capitò, io alle volte mi vedo che sia meglio di perché mi sono capitati, ma io ho chiesto a una signora di una certa età, questa mi disse, sai io ho cominciato a lavorare con un artista, poi mi sono venuto a fermare, perché mio marito, i figli, il lavoro, come facevano? Io gli ho detto, ma tu fai quadri troppo piccoli? La fine questa mi ha detto, senti, tu lo sai perché io faccio quadri troppo piccoli? Perché metà del tavolo se lo prende il mio figlio, se lo prende il mio marito. Beh io all'inizio pensavo che fosse una stupidaggia, un po' mi sono preso quadri, quanti nemici può avere un artista, ma assurdo, non ti dà un centimetro neanche su questo. Per andare quindi, e lo ripeto, alla sintesi finale di questo discorso, un momento d'altro è un momento che non ti deve mai fare uscire come sei entrato. Tutti queste persone lottano per creare una Roma più avanzata, una società più sensibile, una società dove non ci siano più quelli che odiano la cultura, ma almeno riuscire a raggiungere il fatto che gli siano indifferenti. Pensate, sarebbe già un successo. Su questo lottano i critici, lottano gli intellettuali, lottano tutti. Credo sia arrivato il momento, Ilaria, di indicare. Allora, aspettiamo un attimino. Sì, allora, chiudo il discorso ringraziando Angelo e Ilaria. Oh, questa è una cosa, guardate, importante che io devo dire a presentare insieme a altre cose, è perché loro hanno questa dimensione. Loro sono nei salori di eventi, ma sono innanzitutto artisti. E come si dice in gergo, ci mettono la macchina, perché ci mettono anche la loro opera. E so io che cosa significa che un artista. Ed è una cosa bellissima. Chi odializza i eventi, lotta per se stesso, ma lotta per far andare avanti la città. Io vi ringrazio tutti, ragazzi. Faremo questo grande evento che si chiama Passionate Barcellona. Fra di voi, ovviamente, Barbagallo ha scelto un'opera. Vorrei fare una precisazione, scusate ancora un attimo, perché è da fare, è molto importante. Quando si dice che si sceglie un'opera, non significa che in assoluto quell'opera sia la numero uno cercata. Significa che, espressivamente, rispetto a quella scadenza, a quel momento, è quella che sta seguendo quella linea di pensiero di quel momento particolare storico di quella città. E quindi, normalmente, è la prima opera all'interno di un piccolo gruppo di opere che grossolanamente sono quelle, diciamo, leader all'interno di un discorso, ma che rappresenta, in ogni caso, il soggetto da selezionare, per tutta una dei criteri, che il discorso sarebbe lungo, di generalizzazione, che l'opera deve avere. Quindi, guai a entrare nella competitività, ma dobbiamo considerarlo, come si dice in gergo, come uno di noi. Allora, vediamo un attimo. L'opera che tu hai scelto è di Maria Teresa Orano. Mi regge, scusami. Abbiamo scelato un pazzo di asce, no? Sì, ecco, vedete, no? Dunque... E' chiaro che vedete tutti quanti che l'elemento cromatico è l'elemento... Cioè, il colore, la tinta, è l'elemento di potenza di quest'opera. L'elemento di potenza è l'elemento cromatico. Questa è un'opera che, ripeto, sì, la tieni tu. Ah, certo. Sta bene con la luce artificiale, a condizione che la luce artificiale non sia eccessiva. Cioè, sicuramente, sapete quelle gallerie che lavorano molto sul neon, che stanno soprattutto nel nord Europa, perché loro non hanno i colori del sole, quindi il neon esagerato la sacrifica. Però è un'opera nel complesso che ha un po' i criteri, sia di figurativo, sia soprattutto, lo ripeto, questi cromatismi molto indovinati, molto buoni. Io ti faccio dire una cosa. Grazie a tutti. Quindi devi venire da sotto a parte di ora. Grazie a tutti. Ciao, mi chiamo Silvia Pianpiano, è un'arte sciribia. Questa è la mia opera. Fa parte di una serie che si chiama Fashion, che è ispirata al mondo della moda e al momento di Glamour, che ci può essere. Questa qui in particolare si chiama Magic Nippon. Si tratta di una tecnica a olio con misto. Il misto consiste in alcuni ritocchi fatti con colori indelebili a oro, color oro, che sono questi giri gogoli. La mia arte esprime più che altro sentimenti in modo figurativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, io sono Sara Ricceri e questo è il mio quadro, intitolato Montefiascone. Questa è un'opera dedicata all'amore che è nata da una semplicissima serata passata in compagnia del mio ragazzo che esplicitamente mi ha chiesto di immortalare un tramonto estremamente romantico. Ed ecco qui che nel giro di un'ora ho elaborato l'idea. Io vengo da una formazione artistica di sette anni, laureata in lettere e nel suo spettacolo e il mio sito internet dove potrete visionare i miei quadri è www.ricceriartgallery.com e il mio sito internet è www.ricceriartgallery.com Ok, ciao a tutti, sono Antrimarchi, Antri. Questo è il mio quadro, quello sopra, si chiama Forza incredibile di un'utopia e vuole rappresentare nella sua atmosfera statica e priva di identità quella che potrebbe essere la forza di un'utopia e il suo movimento con solo gli arti scoperti e il volto, diciamo, privo di volta e dunque di identità. La serie è una fotografia di una serie che potete vedere su antri.jux.com e lì potete vedere anche le successive fasi perché poi è un pensiero che si evolve e culmina appunto nell'utopia Sono Salvo Dejana ho realizzato questo lavoro in legno è un legno africano è un legno molto morbido da lavorare comunque è forte, resistente il titolo dell'opera è Equilibri in pratica rappresenta l'equilibrio che noi tutti i giorni cerchiamo di mantenere per andare avanti nella nostra vita Ok, buonasera a tutti io mi chiamo Silvia Gioiosa sono l'autrice di questo quadro in alto che si chiama In direzione ostinata e contraria che è ispirato a una canzone di Fabrizio De Andree e questo quadro inizialmente nasce come una fotografia che mi vede ritratta insieme ad un'altra persona che mi ha subito fatto pensare a questa canzone e al significato che questa canzone ha per me e quindi ho voluto rappresentare poi su tela con i colori quello che sentivo cioè questo volersi a volte anche allontanare dagli altri per riuscire a vedere le cose in maniera più nitida e più obiettiva per questo in direzione ostinata e contraria rispetto agli altri Salve, sono Danila questo è il mio quadro, si chiama Africa è un acrilico sopra tela e realmente ho cercato di rappresentarla in questo modo per una specie di denuncia su come noi realmente diamo le spalle a questo continente spero che vi piaccia più o meno le mie opere sono un po' più astratte di questa sono Salvatore Falco la mia opera è in 50x70 dettagli di luce il titolo e da piccoli particolari riesco a ricavare delle cose grazie a tutti Mi chiamo Petrov Viorica e ho partecipato a questa mostra di Roma, sono molto contentissima. Il mio quadro è stato molto apprezzato da tutti. Questa è la mia tecnica, ho voluto rappresentare la tempesta marina qua a Tor San Lorenzo, vicino a Roma. Lo vedo ogni sera perché abito vicino a Ardea, vicino al mare. Sempre il mare è così quando è in tempesta. Questa per me rappresenta anche la vita con tutti i suoi problemi, ma alla fine si arriva alla riva del mare. Salve a tutti. Mi chiamo Ronzo Curvo e Narte Reins. In sintesi posso esprimere i miei entusiasmi attraverso la pittura, che mi permette di srinsecare a pieno quelle emozioni che vengono generate quando si vive. A livello cromatico riesco a sentire quelle emozioni che vengono assimilate durante la vita. L'ispirazione mi sarà data mia moglie perché è stata con lei che mi ha dato fiducia, che inizialmente ero praticamente un disegnatore. Col tempo mi sono evoluto e ho adottato dei metodi particolari, ossia la pittura ad olio, quella ad acrilico, e mi sono migliorato. Però la pittura per me è stata anche una cura. Mi ha curato a livello emotivo perché, come sappiamo, la vita molte volte ci traumatizza e dobbiamo trovare un'alternativa per poterci risollevare. Praticamente questo quadro è una sintesi di quelle emozioni che provo nei riguardi mia moglie, l'amore che ho nei suoi riguardi, l'ho generato in un periodo particolare. L'ho chiamato Musa Romana, che mia moglie è di Roma e mi ha dato la carica emotiva per poter vivere a pieno queste emozioni. Allora, io mi chiamo Maria Teresa Romana, l'opera che presento è Senso, 40x60, olio su tela, effettuata a spatola. Amo molto il colore, da come si può notare. È un lavoro a cui ho molto creduto e è stato fatto di impatto. Più che al disegno, ho appuntato molto sul colore. È molto cromatico e possiamo dire che si avvicina molto all'impressionismo, perché io mi ispiro molto all'impressionismo. Allora, io mi chiamo. Applausi. 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 di uno stile astratto, a volte anche figurativo, in quest'opera che si chiama Live in Naples ho mischiato un po', ho puntato diciamo sull'aspetto emozionale di quello che potrebbe essere la musica in un contesto urbano come Napoli. Salve, salve a tutti, sono Sergio Farina, questa è la mia opera, è un acquarello, più che altro prediligo anche altre tecniche come l'olio, l'acrilico e anche la semplice penna a biro, in questa mostra mi sono presentato come acquarellista, rappresenta Cala Golorizze, una zona della Sardegna nell'entroterra di Baonei, chi vorrebbe visitare il mio sito è www.sergiofarina.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salve a tutti, sono Cedroni Debora, nasco come illustratrice, sono di Roma e in questa occasione porto un'opera che non mi rappresenta al massimo perché sono un'illustratrice, quindi più figurativa, però ho voluto usare delle tecniche miste per magari esprimere delle cose diverse e con questi colori voglio rappresentare quello che è la natura, quindi il mare misto al verde e anche alla terra con queste mani che rappresentano un po' la nascita di qualcosa. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.